La sera dal telegiornale Rai della Veneto, i ricoveri dei malati covid negli ultimi giorni hanno ripreso a salire ma per ora la situazione è sotto controllo anche se a preoccupare è il trend della provincia di Brescia. Matteo Mohorovici, c'è Marco Madini. Stiamo vedendo un incremento modesto al momento ma questo potrebbe far anche pensare che nei prossimi giorni e lo vedremo che avremo un notevole aumento dell'attività e quindi del numero dei ricoveri. All'azienda ospedaliera di Padova Anna Maria Cattelan dirige il reparto di malattie infettive, area non critica. Nell'ultima settimana i ricoveri per covid sono in crescita per quanto minima. 3-4 al giorno al posto di 1-2 di 15 giorni fa. I pazienti hanno in media 65 anni e più patologie. Il sistema tiene ma non c'è da stare tranquilli. I casi sono complessi e spesso serve l'ossigeno. Faccio un esempio, da ieri sera ad oggi abbiamo mandato tre pazienti in rianimazione. Al momento però le terapie intensive sono stabili come numeri, conferma il professor Paolo Navalesi. Il timore è che però ricominci l'onda vedendo quanto sta accadendo in Lombardia. A Brescia e in otto comuni della Bergamasca è già zona arancione rafforzata. Gli ospedali tendono alla saturazione. Il timore ce lo abbiamo, peraltro non possiamo neanche paralizzarci in attesa che succeda. La risposta è essere pronti e capaci a variare sulla base delle richieste e di quello che succederà. Tenendo conto che i ricoveri in terapia intensiva arrivano sempre dopo i ricoveri in ambito ordinario. Sotto controllo anche la...